Salve a tutti, sono Simona Abate, la psicologa del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. La procedura di assistenza alle vittime di violenza e maltrattamento di chi accede presso il pronto soccorso del nostro ospedale prevede un'accoglienza a carattere psicologico, perché resta fondamentale prendere in carico gli aspetti emotivi, affettivi ed esistenziali di chi subisce violenza, perché dietro una violenza fisica c'è sempre e comunque una violenza psicologica. Il 25 novembre di quest'anno molto particolare che stiamo vivendo, vorrei ricordare che chi è costretto a vivere nella stessa casa con un uomo violento è ancora maggiormente più in pericolo e quindi il 15-22 resta uno strumento di aiuto fondamentale.